Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di ROT Stavo dicendo Brawl Stars, invece no Ecco, allora ragazzi Omarvino è andato un po' avanti col lavoro, si è portato avanti, non so che aveva tempo E ragazzi, direi che ha fatto un ottimo lavoro Come potete vedere, ho cambiato capigliatura Sono molto, molto gnocco Ehi, cosa vorresti dire? No, no, niente Per gnocco intendo... Gnocco per favore Cattivo Perché sei cattivo Sì che è vero che sei cattivo Sì che è vero Andiamo a pensare Betti Sì, allora io mi chiedo un bicchiere così posso bere? Grazie mille, grazie Grazie Se hai il teddy No, tricchioli no Te ne faccio uno anche a te Tenti un day Allora, aspetta che te ne lancio uno No, così li lancio tutti e due Aspetta, te ne lancio uno Non se ne puoi lanciare uno Ecco, questo è un problema Allora, aspetta, proviamo a fare così E a metterne uno qua Aspetta un attimo che provo a fare le cose Ah già è vero, devo prima riempirli d'acqua Ok, te le do a mattina Te le lancio a mattina A chi non le ha? A me Quella è vestita Ok, aspetta un attimo che sono in prima persona Non capisco niente Vieni, eccolo qua Thank you Oh, questo ce l'ha dato Ecco, perché ragazzi Ecco, ragazzi Ecco, scomparsa la cassa Non c'è più mardina Dentro c'era, ragazzi, il mio poso Per prendere gli oggetti Ma era quello là di ultimo livello Quello più forte E mi dispiace un sacco Va bene Allora, io però farei una cosa Metterei nell'inventario Tutte le robe che mi servono Allora, questo è tutto Mettiamo la maglia Perché quando fa freddo Si sta Mi vado Mi tengo questa Poi Questa la pittola La possiamo anche posare Tanto non ho neanche i colpi Poi io direi che Nell'inventario ci sta Anche magari Questo E come ultima cosa Direi che ci può stare Un'ascia Ok, va bene Mi sono girato Ho visto questa scena Andiamo in cerca di oggetti Andiamo in cerca di oggetti Visto che l'altro Ce l'ho per funzionare Il bacio Ci autotraspettiamo però Sì, ragazzi Non si sa come mai Ma hanno Hanno messo questo oggetto Via Questo tasto Ecco qua, ragazzi Siamo dentro Salfordati A caso Molto, molto a caso Questa è ancora Natalizia, Zattera Oh Manca farlo a posto Ho preso Anche un barile Sì Ed ogni volta Voi direte Ogni volta dovete fare Un casino Per tornare Nell'altra Zattera Sì Infatti ho detto alla Martina Facciamo un ponte Che collega questa isola All'altra Isola, non so Perché ho detto Isola, va dettagli E lei ha detto di nuovo E questo potrebbe essere No, scusami È la mia zattera Sì, lo so Ma magari un ponte piccolo No Ma come no E ogni volta facciamo Sto E sì Ma come va bene Eh, qua adesso Io me ne vado a vivere qua No, tu non vivi a casa mia È certo che vivo a casa tua E poi comunque Stiamo facendo la nuova casa Quindi non è più casa tua Nel certo senso È solo una base Sì, guarda che io ci vado avanti Anche qua, sai È solo una base Per raccogliere E che senso la scusa? Sì, perché abbiamo la tua E questa qua è mia Ci sono affezionata Ah sì, grazie Bravo, perché mi hai fatto Venire in mente una cosa Allora, ragazzi I primi punti Io aiuterò la Martina Anche se non sto facendo niente Da quattro minuti Ma Dal Probabilmente Prossimo episodio Non sono sicuro Che sia per forza il prossimo Però Alcuni dei prossimi Sì, mamma, ciao Grazie che stiamo facendo un video Te ne interrompi Io andrò avanti Sulla mia zattera Quella la vecchia Che avevamo io e la Martina Però Creerò la mia zattera E invece La Martina Continuerà su questa qua Ah, non è vero? Certo Sì, perché Non fare guai Nella mia zattera Come una volta Che hai piazzato L'albero di Natale A caso Come si croppa L'albero di Natale? Dai, no Per favore No, guarda Che ammazzo Non giochiamo più a raft Eh, faccio Io me lo tengo Alluminio Ma c'è più è L'albero di Natale? No, dai Per favore Guarda che mi ha rabbia Se la metti Va bene Va bene Allora non lo metto Ah Metto il pupazzo di nero Nella nostra zattera Possiamo mettere Qualche decoro Aterizio Vieni Dove sei? In capo al mondo Ah, sei qua Nel mio ponte Vieni Ti ho investito Ecco l'albero L'albero Spacchiamo l'albero Ma non puoi Spaccare Nell'altra zatter Vabbè Cristiano Io spacco comunque Magari prima o poi Si spacca Che non so Ok Sto cercando Di creare Il pupazzo di nero Ma lo mettiamo Nella nostra Vero? Si si Ne creo due Uno lo mettiamo là Uno lo mettiamo qua No Non voglio Spacchia Dai per favore Guarda che esco Ci metto un attimo A uscire Stiamo facendo Un video E vabbè Non mi interessa Ok Ok ragazzi Oddio Mi sono buggato Ah no Non mi sono buggato Mi ha teletransponsato Da solo Va bene E Ho pronto Il pupazzo di neve Ah Da qui Dovevamo andare Sul ponte Ok Mi dimentico Sempre dove si va Qua ci andiamo Il mulino Comunque Che non Sappiamo ancora Cosa serve Il mulino Ben di preciso Ad acqua Poi Molire ad acqua Il mulino Che cos'è No ma cosa serve Il mulino Semplicemente fare Il mulino Che ci si sa Per Tirare Per macinare La farina Ma ho capito Ma quello ad acqua Ma quello ad acqua Quella fa tirare Il perno Perché l'acqua Fa girare Il mulino E il perno Continua a girare Sempre Senza a poter Spendere i soldi Invergire Quindi In teoria Se noi mettiamo Ad esempio Il coso Per creare Il legno Il presente Martina E lo possiamo Avvicinare al mulino Magari funziona Aspetta Prima di toccare Le robe A casa Che voglio Vedere Anch'io Aspettami Sto arrivando Ma dove? Nella rattera Sì Tranquilla Non tocco Non tocco Non Cosa hai messo? Adesso la tolgo No No Ti prego Ti picchio Ti picchio No No Dai Il pupaggio di neve È bellissimo Lo metti da un'altra parte Il pupaggio di neve Va bene Va bene Questo lascialo Ti prego È il mio amico È il mio amico Voglio parlare con lui Lo metti da un'altra parte Va bene Però questo lo lasci Dai Non lo togliere Ti prego Dai È il mio amico No 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 Cattiva Adesso Ecco Sono uscito Mamma mia Che fio piccolo È certo Che fio piccolo Che fio piccolo Che fio piccolo Che fio piccolo È Che fio piccolo È È vero Che fio piccolo Ai là I morsi Che va Ehi Non dimmi che mi ha teletrasportato Ok Per fortuna Oddio C'è bagato tutto Allora Allora Mentre la Martina Continua a lavorare Il suo odio Io creo Un altro pupazzo di neve Mettilo qua Qua non lo Non lo Non lo Non lo Non ti vedo Martina Mi sa che farò Un po' Da me Qua lo metti Eh Finché Non va avanti Non posso fare niente Perché si bagga L'inventario Non capisco Aspetta Devo fare così Vero Adesso funziona Infatti Vai veloce Che sono 2% Adesso si è bagato Di nuovo E si è bagato E non va avanti Ok Adesso va avanti Non va più avanti Guarda dove sono Ah Lo voglio Oddio Si sta baggando Tutto Allora Facciamo L'albero No Pubblici Dato Facebook Non puoi aspettare Prima di fare L'albero di Natale Scusami Ma non sto facendo L'albero di Natale E cosa stai facendo Che fai così nero E non puoi aspettare Dovanghi una volta No aspetta Prendilo qua Girato Come lo avevo nella zattera Qua Girato così Qua 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 Anzi qua Scusa Qua Ma questo è mio Al centro Aspetta Ti dico io Se va bene Girato Girato Ok Più indietro Più in qua Ok No Mettilo Aspetta Così Come prima Un po' più in là Ok Dammi così E qua Fai l'albero di Natale Qua Ovviva Qua fai l'albero Facciamo un balletto Per questo Già E Te le trasportiamo Che balletto bellissimo Te le trasportiamoci Non devi che Stavo ancora ballando Perché Contento adesso Sto creando un altro pupazzo di neve Martina Per cosa? Permettetelo Non è in questa parte qua Guarda che esco Se lo fai Eh va bene No cosa fai? Ecco hai visto? Se lo crei Ecco Non l'ho Non l'ho ancora creato Quindi non puoi E poi Visto che sei andato Oh signore Che sia piccola Se mi prometti Che non lo crei E lo fai Rientro Sì Sì Che non lo crei Prima di mezzare Lei 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 Tu Lei Se crei il pupazzo Ti coppo Vieni nella mia zattura E dammi una mano Per favore C'è la nostra Ma io non so se ho abbastanza materiale Aspetta E per favore Guarda che escono Otra volta Per fare questo Mi saranno Cinque corde Dieci di legno E due di questi Io L'unica cosa che ho Cos'è che sono Le foglie Giusto? No mi sono neanche le foglie Ecco qua Ci sono un po' di foglie Così Mi faccio un po' di corde Dai Non farlo Tutto Per favore Sto cercando Per fare il legno 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 Che è Papà Se non las metti Guarda che me Ma è la Speriamo E come che las metti Oddio Barile 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 Il mio barile Martina Io prendo i materiali Dopo te li porto Sì Grazie Però io Odio vedere Il sangue Madonna E cioè Quando sali Sopra Come si dice Ti rimpicciolisce Tipo Eh Ma stai prendendo Un po' di Un po' copia Da Dall'alto Dall'altra Zatta È vero Sì Un po' Sì Infatti ho visto Dove hai messo Il robo Per farci Sì Solo per quello Tipo per le camere No Ecco No Stavolta voglio Completamente Diversa Diversa Oh beh Ma io Tu farai Come vuoi Io dopo Io dopo Inizio a creare Vediamo le camerette Magari Io ogni cosa Che creiamo Entriamo E vediamo E se facciamo Una camera Unica In che senso Sì La mia Sia tua Ma In che senso Scusa Una camera Tipo Modo Matrimoniale Ecco Così Per farti capire Sì Sì No Vuoi fare Quello Che vuoi Anche io Dopo La farò Una camera Unica Sì Lo so Martina Ma il problema È che io Volevo L'altro Mondo Perché È pieno Di bug Qua Non mi fa Spaccare Le cose E tutto Il resto Capisci Comunque Mi sa Che quella Roba Che hai Buttato L'ho presa Io Non sono Sicura Comunque Ti faccio Un regalo Qua Qua Io Questa Tolerata Sieni Aspetta Aspetta Sieni Non mi piace Credo Che non ti piace Da maschio E vabbè Non vado Tientelo Non sai perché No 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 Non sei Pazza L'hai ripresa Ma pensavo Non si potesse Riprendere Ho preso Paura Non si poteva Riprendere Io giuro Che ti uccidevo E piazzavo Mettitela Quella maglietta Mi mettevo Di impegno Piazzavo 30 pupacie Di neve Mettitela Quella maglietta Ma perché Me la metti Sull'altro Questa qua Cosa Quest'altra qua Eh no Perché sto guardando Un filmato Per avere una roba Un giorno Mi crei Un reggiseno Va bene Ok E puoi Fare No Aspetta Aspetta No mi è venuta in mente Una cosa E ci sono tipo Delle trecine Come i capelli Per le Sì Ecco perfetto Mi crei Le trecine Visto che costano Anche poco Non mi hai fregati Vero No Non te li ho fregati Mi crei Delle trecine E così siamo a posto Una trecine Me le tengo Me le tengo Forse che me le crei Facciamo Falla anche subito Sì E io ti passo Un po' di roba Che ho qua Aspetta Un attimo Che bevo Non ci ricordi Mi guardo i filmati Qua per farlo Amico Facciamo Sti robbi qua Cosa Fanni un po' tu Dissi Il parimento I raft defense Fanni una vecina a tu Visto che io Gli ho fatti quasi tutti Gli ho fatti tutti io Ma che cosa I raft defense o I No Fai prima sti pezzi Perché Ok I raft defense Li mettiamo alla fine Ho messo solo quelli là Perché Per capire da dove parto La bambina Il problema è che Ho pochissime foglie È anche più economico Comunque Questo pezzo di legno Perché non devi usare Le foglie Fai per lì Sto cercando La trezza Ok È una sola trezza Ma dovrebbe essere Veloce da fare No ragazzi Allora dobbiamo Concludere l'episodio Però con la trezza fatta Adesso interrompo Che siamo già 20 minuti di registrazione Grazie 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 Ciao Grazie a tutti.